buongiorno ciao a tutti oggi siamo qui alla scuola dell'arca di pianezza dove la scorsa settimana abbiamo lavorato insieme per produrre gli open day virtuali della scuola sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria e qua con me la preside della scuola a cui passo la parola per raccontare cosa abbiamo fatto e anche un po i risultati direi grazie mille noi quest'anno come scuola abbiamo dovuto rinunciare un po al nostro format standard di open day che prevede una visita della scuola ai gruppi di genitori che sono interessati perché chiaramente per motivi epidemiologici non ci siamo riusciti e allora ci siamo posti il problema di come fare a risolvere ad aggirare l'unpass ci è venuto in mente che visto che la nostra forza è proprio nella bellezza dei nostri spazi l'unico l'unico modo per risolvere il problema era proprio quello di creare un video che facesse vedere i nostri luoghi i nostri spazi i nostri bambini e i nostri insegnanti però è un lavoro veramente complesso c'è bisogno di competenze di attrezzature adatte e noi non avevamo né le energie né gli strumenti per farlo e quindi ci siamo appunto rivolti a un professionista il signor giannolio è stato molto disponibile ha capito quali erano le nostre esigenze di che cosa avevamo bisogno quali erano i punti di forza che bisognava sfruttare nelle nelle riprese e quindi abbiamo avuto delle mattinate di lavoro molto intenso in cui abbiamo firmato i vari momenti di lavoro nelle nelle nostre scuole proprio per far vedere al di fuori della nostra realtà in che modo in che modo lavoriamo sicuramente la cosa che ha fatto più più scena sono state le riprese col drone perché sono sempre delle riprese molto scenografiche che piacciono e che permettono in questo contesto poi soprattutto esatto e che hanno permesso davvero alle famiglie che non ci conoscevano di poter vedere i nostri spazi anzi quasi meglio che se fossero in presenza perché hanno potuto cogliere quanto è grande il nostro cortile quante sono quante grande la nostra scuola e quindi in quali spazi i ragazzi si possono muovere quindi sicuramente stato è stato favorevole e poi dal punto di vista dei risultati innegabilmente sono stati positivi al momento noi abbiamo già avuto alla scuola media un incremento rispetto all'anno scorso del 100 per cento più numeri alla mano delle delle iscrizioni quindi ha sicuramente funzionato sì 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 e anche alla scuola primaria è stato veramente rassicurante per i genitori perché loro sono la prima esperienza di scuola i bimbi hanno sei anni e vogliono un po' vedere dove li mandano e questo è proprio stato molto gradito il poter vedere il poterci conoscere di persona e non solo attraverso così delle telefonate o delle o delle mail quindi è davvero stato una collaborazione molto 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 proficua sono contentissimo è solo l'inizio è solo l'inizio sì non ci piove non ci piove assolutamente grazie prego ci mancherebbe altro grazie a tutti